non funziona, non lo vuoi? non lo vuoi? non credo va che a salire è dura a salire magari facciamo un'altra la tale è mia la tua Vito, cosa ti interessa? non c'è nessuno non guardiamo non è un pozzo che è vero? non c'è un pozzo Ah, non si è apagato